Nel video precedente Ragazzi Se hai le palle di perdere i pandori li selezionerei tutti e due Avete le palle tutte e due di calciare ragazzi Assolutamente si Come vi chiamate? Luca Grazie Tu somigli ad immobile non so perchè ma mi ricorda molto immobile Ciro come Ciro? Che squadra ti fate ragazzi? Borpina come domanda For Juve Juve Io Bologna Nasce Bologna e ti fa Bologna Qual è il vostro sogno nel cassetto? Non so se si sente Quella sempre ragazzi Quella è importante Secondo voi Una bella domanda per voi Questo campionato chi lo riuscirà a vincere? La Juve ormai ha perso La Juve ormai è fuori Direi l'Inter Direi l'Inter Ok E visto che siamo in tema di sfide Ragazzi io abbiamo una sfida per voi Dovete riuscire a vincere questi pandoro che sono rimasti Avrete già visto sicuramente il tiro di Case Poca coordinazione Però è efficiente E' quello che serve anche per giocare a calcio Voi riuscirete a fare lo stesso oppure no? Si spera Bene adesso lo vediamo subito Ok ragazzi La porta è lì La palla è lì Lui è bendato ed è pronto per questo primo tentativo Ooooooooooooo E sbaglia Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Il primo tentativo sbagliato per lui Vedremo se come anche Concase riuscirà a risolvere tutto al secondo tentativo Male 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 Prende l'aria in corsa Conta i passi E prova con questo tiro Fuori Fuori ragazzi Però Però Voglio darti l'ultima possibilità Voglio regalarti Te lo voglio Di tacco Non da bendato Ma come ci suggerisce Tu amico Come ti chiami Mattia 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 come la devi tirare Di tacco Di tacco L'ultima di tacco La proviamo Proviamo Dai La proviamo Vai Palla Suggerimento Mettila dritta In modo che sei Esattamente dritto Alla porta Ok Spero che tu abbia guardato I miei video Tacco magico di Pierino Qualcosa che Samu Non avrà mai E' il terzo tentativo Ragazzi Ce l'ha fatta Di tacco C'è Allora Non è messo Le prime due Che Diciamo Era E' più difficile Che di tacco Ma pensa a te Direttamente dalla mamma Direttamente dalla mamma Pandorino Pandorino ragazzi Mostrala tutti Pandorino Adesso se lo vince lui Adesso vediamo se riesce a vincere Dopo lo mangiamo tutti insieme Eccoci qua Siamo qui con Michelangelo 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 Allora Il tuo amico ce l'ha fatta Bene Ho rotto che a te Ho rotto che a te Allora una previsione Sì Allora Nel caso lo vincessi Lo regalo a una persona Della piazza Oh Bello Gran bel gesto Bene micchi Si puoi bendare Bene Guarda la palla Guarda la porta Avvicinami leggermente alla porta Se riesci Leggermente Che è un pochino più Più lontana È previsto Se riesci al primo tentativo A farsela È nel regalo Tre E non più uno Sta per partire E va col tiro La sbaglia ragazzi Clamorosamente La sbaglia Ragazzi Cosa commentate Cosa dite Sono spagnola Che non interamo Ah Sono spagnola Ah Hola 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 E Sono su un tiro di mierda Giusto? Si Ti do un'altra possibilità Se riesci a farla Vince questi pandoi Stanno facendo il tifo per te Ci sono le spagnole Oh Stanno facendo il tifo per lui Oh E dai gol A chi vuoi regalare Questi pandoi Allora Direi che uno lo regalo Allora Uno Non so se tra una vecchietta Lì lo so Una vecchietta Così Ok Vi ha dedicato Il pandoro Yes Regalo Però You want to play? Wow Ok ragazzi Italian Big pandoro Scusate No no Big pandoro Va bene ragazzi Senti ho fottuto un pandoro Allora ragazzi A sorpresa Adesso abbiamo una lei A tirare Abbiamo una lei Che da dove vieni? Da donde eres? Spanio Almeria Ah Almeria Spanio E io Sono stato Almeria Come si dice Almeria Molto bello Molto bello Mucho Paramas Bello Mucho bello E quanti anni 21 Ah 21 Oh young Spanio Impressionante Ok Yes Studi? No Viaje Travel Holiday Oh Holiday Ma che bella vacanza Ragazzi Vacanza qua a Bologna Con off-saham In griffo Tuo Equipo Favorito In Spagna De football Real Madrid Real Madrid Alla Madrid Benicio Junior Tienes che Tirare Un shout out No Spanio 5 Años Lui Estudia Spanio 5 Años Hablar Mucho mal Mucho Mucho mal 5 Años Ok This is the Suida Questa La suida You Tirar El balón Dentro La porta Ok You have Dos Intentos Intentos Dos intentos Yes Dos intentos Hai visto dove è la porta Benissimo Marta is ready Marta is ready You know We are here In Bologna With Marta From Spain You know Guys And this is the football challenge Marta We are all together Ready Yes And three And two And one Go Oh 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 Incredibile Incredibile Ce l'ha fatta il primo tentativo Incredibile Marta won It's incredible Another one Wow Yes Another one Yes Another one Of course Another one DJ Khaled Another one Vieni qua Portala Another one Ed ecco il suo premio Marta Fue difficile Difficile o facile Difficile Ok Muy difficile Mucho entrenamiento Giochi a calcio? Hai mai giocato a calcio? Vegas a football? No Ballonmano Ah Palamano Handball 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 I Play Handball When I was Child Oh Muchas gracias One question Yes You are going to Stay in the night For some drinks This night Or tomorrow Oh yes Yes We are going to stay here Ok Stai murchiando raga Al jueves Tienes que preguntar E' el numero de movil Yes Va bene Kat Kat Vi racconteremo un altro giorno Come sarà andando Marta Tienes que saludar Pubblico en español Buena o la prima? Pa mi gente de España Estamos aquí en Bologna Buena venis Poder veni a saludar Veni a saludar Vieni 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 Ama guardalo Estamos aquí Malu, Paula, Sofía y yo Marta Ven aquí a Bologna Y nada A ver esta noche y mañana Lo que se cueste Lo que se cueste no? Ok Mucha gracias Mucha gracias E mucha gracias Paella Bene ragazzi Questo video Ragazzi Bellissimo Intenso Termina Qui E la cosa bella E che restan due pandori Uno per me E uno per te Dimi che ho pensato male Dimi che l'ho pensato male Dimi che l'ho pensato male Ragazzi Mi raccomando Iscrivetevi al canale Mettete like Che se arriviamo a 10.000 like Cos'è che facciamo Piero E facciamo la stessa cosa Però con il riso col pollo Quindi ragazzi mettete like Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo in un prossimo video Linea allo studio